Picchiata brutalmente da sua datore di lavoro, finisce in ospedale, vittima dell'aggressione una trentenne di origine moldava che è stata ricoverata con frattura nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Sulmona. La giovane che stava lavorando in un locale notturno del territorio marchigiano sarebbe stata afferrata per i capelli, strattonata sul pavimento della struttura dal suo capo servizio. Un'aggressione avvenuta nel corso di un litigio che le ha causato una frattura al braccio a due dira della mano destra come diagnosticato dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. La trentenne che guarirà in un mese è stata ricoverata nel reparto di ortopedia per proseguire le cure. Qui sarà sottoposta un intervento chirurgico che sarà effettuato nei prossimi giorni dall'equip sanitaria diretta dal primario Fabio Lombardi. Subirò dopo l'aggressione la trentenne moldava, si era recata nel pronto soccorso dell'ospedale più vicino salvo poi spostarsi a Sulmona, città che abitualmente frequenta perché fidanzato vive in valle su Bequana. La vicenda è stata segnalata immediatamente al commissariato di polizia per le indagini del caso. La squadra volante ha ritirato il referto stilato dal pronto soccorso e ha raccolto la testimonianza della vittima per fare chiarezza sulle modalità e sulle circostanze dell'aggressione in modo tale da ricostruire tutti i particolari. Una situazione delicata dal momento che in passato la trentenne era stare aggredita in circostanze simili in altro locale notturno della Marsica. La polizia con l'attività di indagine che sarà subito avviata vuole capire se si tratta di una semplice violenza avvenuta sul posto di lavoro o se dietro quelle botte potrebbe esserci anche altro. Al momento la giovane è ancora sotto shock tanto che non ricorda nemmeno il nome del titolare del locale dove è avvenuto il fatto. Intanto la procura della Repubblica di Fermo, competente per territorio, ha aperto un fascicolo sulla vicenda e ha delegato i poliziotti sulmonesi di seguire la fase preliminare dell'indagine.